Tre giorni dedicati al mare e all'economia, alle attività connesse e alla valorizzazione del territorio costiero. Teramare, la costa teramana protagonista della Blue Economy, in programma dal 23 al 25 giugno tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi e l'evento ideato e promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia. Abbiamo voluto creare questo evento sul porto di Giulianova e sul porto di Roseto proprio per mettere in evidenza quelle che sono le nostre infrastrutture portuali sia a Giulianova che a Roseto perché sono delle infrastrutture che reputiamo strategiche per il nostro territorio sia per un discorso turistico ma anche per un discorso di nautica, di pescherecci in generale e quindi per un discorso economico. Vuole essere un focus bello che al contempo deve comunque essere una festa per la popolazione e quindi con questo abbiamo voluto creare questa partnership con la Marina Militare verranno con due unità navali e quindi ci sarà anche un certo intrattenimento proprio al porto ci saranno anche tutta una serie di stand informativi e quindi ecco tutta una serie di spettacoli che poi comunque daremo nel dettaglio. Tre giorni in cui la Camera di Commercio comunque scende sul territorio costiero insieme a tutti i comuni con il patrocinio della regione, con la provincia, il BIM, questo vuole essere anche una cabina di regia integrata tra enti perché quando gli enti riescono a lavorare in sinergia ne gode tutto il territorio e diventiamo sempre più forti da un punto di vista politico e da un punto di vista anche economico-commerciale. Terramare sarà un evento dedicato alla costa teramana, all'Abruzzo e al suo mare per valorizzare le infrastrutture portuali dell'area che rappresentano un elemento importante per lo sviluppo sociale ed economico.